Una buona prestazione, la squadra in questo momento qui sta bene, purtroppo ci è mancato Il gol è un pareggio probabilmente giusto, però se andiamo a analizzare il computo delle occasioni forse Lasti ha fatto qualcosa in più Forse Lasti meritava qualcosa in più anche se per vincere bisogna segnare, quindi questo non è caduto, è stato 1-0-0 È stata una buonissima prestazione di livello di tutta la squadra, secondo me abbiamo giocato contro una squadra forte Che gioca un buon calcio, noi anche abbiamo espresso le nostre idee, non era facile, è un punto che ci teniamo stretto perché è un buonissimo punto Grazie a tutti